Solitamente si dice che i turisti stranieri che apprezzano di più il nostro territorio sono i tedeschi, gli olandesi e i russi. Ora però sta emergendo una nuova realtà, con flussi importanti provenienti anche da altre realtà europee. In base agli ultimi dati, infatti, cresce l'appeal della Liguria tra i turisti della Cecoslovacchia. Il turista ceco è infatti risultato molto interessato alla destinazione Liguria, che da nicchia di mercato, con pochi flussi in arrivo, ha oggi grandi possibilità di crescita. La conferma arriva dalla presentazione dell'offerta turistica fatta dalla Liguria a Praga, organizzata dall'Agenzia in Liguria insieme a Liguria International. In un momento di budget ridotti e attenzione alla spesa pubblica per la promozione sui mercati di nicchia, è sempre più importante partecipare a iniziative che possono portare a risultati importanti. A Praga, 20 tour operator hanno preso contatti diretti con i rappresentanti liguri, mostrando interesse per vacanze balneari, culturali e di enogastronomia e vacanze attive nell'entroterra con trekking e bici per famiglie con bambini, giovani coppie e anziani. Questo sembra infatti essere una delle chiavi vincenti, appunto l'outdoor e le passioni per le attività sportive all'aria aperta. In primo piano, quindi, sia la pista ciclopedonale del ponente Ligure, sia le tante possibilità che offre il nostro entroterra. Proprio quest'ultimo forse non è mai stato sfruttato a pieno, con gli amministratori che dovrebbero investire di più, non solo a parole, ma anche nei fatti sull'entroterra. Sembrano frasi fatte, ma se lo avessero in mano alcuni stranieri ne avrebbero fatto un importante veicolo economico per tutto il territorio. Determinanti saranno i collegamenti, ma buoni frutti sono già arrivati dai nuovi voli diretti di linea dell'operatore cieco su Bologna e Venezia e su Inizia e Milano, che quindi sono risultati comodi, chi più che meno, per giungere in Liguria.